La contestazione della curva dell'Inter nei confronti di Mauro Icardi non si è limitata allo stadio in occasione della partita del pomeriggio contro il Cagliari persa per dal due alun dalla squadra di De Boer. Alcuni ultras nerazzurri infatti hanno esposto uno striscione sotto casa dell'attaccante, noi ci siamo, quando arrivano i tuoi amici argentini ci avvisi o fai l'infame. Il riferimento è alla ricostruzione contenuta all'interno della sua autobiofrafia sempre avanti sullo scontro con i tifosi avuto al termine della gara dello scorso campionato con il sassuolo in cui Icardi ha fermata di essere pronto ad affrontarli uno a uno. Forse non sanno che sono cresciuto in uno dei quartieri sudamericani con il più alto tasso di criminalità e di morti ammazzati per strada. Quanti sono? 50, 100, 200. Va bene, registra il mio messaggio e faglielo sentire, porto 100 criminali dall'Argentina che li ammazzano lì sul posto, poi vediamo. Il primo a diffondere la notizia era stato Massimo Brambati, ex difensore di Bari e Juventus e oggi opinionista di Settegold. Sono abituato a vedere entrare e uscire calciatori dal mio palazzo, Brambati abita nello stesso condominio di Icardi, NDR, anche Maurizio Gans vive lì. Ho assistito alla scena, hanno aggredito la macchina di Icardi, erano in 40 di cui una decina fermi. A scongiurare ogni pericolo è stato il portinaio del condominio, che si è presentato con una pistola in bella vista. Icardi ha poi chiesto che lo striscione venisse rimosso. Tratto da YouTube.